Sì, metti quella che fa... Brigitte Bardot, Bardot... Brigitte Bardot... quella! Fidati che vengono tutti! Tutti! Metto io! Fammela mettere! Oh, Reddy! Reddy, Reddy, Reddy! Questo cos'è? Cos'è? Eh... Spatigliani... Ah... Eh, questo? Sì? Oh, no, no, no! Aspetta! Questo qua? Basta! E questo Reddy, no? No! Ehi! No! No, no, no! No, pure a te, pure a te! Mi metti una traccia, per favore! Un esempio!!! Un esempio è un tema! E la mette le song! Una traccia, segua! Una! Parece che buona consiglia, giù gdzieś nel mio cerchio! Non tro Kristinci, center e ioit un male... Quinto qua? Quinto qua! Quinto qua! Quinto qua! Quinto qua! Grazie a tutti.